Asciugare il tuo bucato in maniera naturale è meglio per la tua biancheria, per l'ambiente e inoltre ti fa risparmiare. Il Brabanzia Wall Fix è sempre pronto all'uso ed è azionabile senza sforzo con una sola mano. Grazie a un solo movimento avrai 24 metri di filo per stendere a tua disposizione, capiente a sufficienza per un intero carico di lavatrice di bucato bagnato. È adatto per indumenti e capi ingombranti, i fili esterni misurano 120 cm. Wall Fix è anti-vento, resistente agli agenti atmosferici, solidamente strutturato e realizzato in materiale anti-corrosione. Tutti i bracci sono dotati di anelli speciali per riappendiabiti, ideale per asciugare anche la biancheria più delicata. I bracci sono dotati di anelli speciali per gli appendiabiti, ideale per asciugare anche la biancheria più delicata. Nella maggior parte dei modelli, Wall Fix include la custodia protettiva o lo storage box per mantenerlo pulito e asciutto. Wall Fix è facile da installare all'esterno, sul balcone o in giardino o anche in casa, seguendo le istruzioni passo passo, grazie ai solidi fissaggi a muro in metallo e alla guida sagomata di foratura.